segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te per preparare la pasta fresca ho messo nella ciotola della planetaria la farina ho sgusciato e sbattuto le uova in una ciotolina parte e poi ho inserite nella macchina in azione ho lasciato impastare fino a ottenere un composto dalla consistenza granulosa e poi ho finito di lavorarlo a mano compattandolo sul piano della cucina e dandogli la forma di una pallina che ho lasciato riposare sotto una ciotola rovesciata per mezz'ora per il condimento ho fatto scaldare abbondante olio in un tegame vi ho unito le cipolle affettate finemente e le ho lasciate appassire nel frattempo pulito le sarde precedentemente sciacquate sotto l'acqua corrente e poi le ho aggiunte in pentola lasciandole cuocere a fuoco dolce per 10-15 minuti fino a farle sciogliere a questo punto ripreso l'impasto l'ho diviso in piccole porzioni e le ho fatte passare una a una attraverso l'apposita trafila realizzando i miei bigoli ho messo sul fuoco una pentola con abbondante acqua senza aggiungere sale e vi ho fatto lessare la pasta per 10-12 minuti poi l'ho scolata nella pentola con il condimento l'ho lasciata insaporire e ho completato con una spolverata di prezzemolo tritato i miei bigoli in salsa sono pronti